Stimolare il dibattito e poi arrivare a formare gente che ambisce a governare questo Paese e quindi questo è l'obiettivo. Questa non è la scuola dell'indottrinamento, ma è la scuola del confronto. Se io avessi avuto questa opportunità, molto probabilmente avrei fatto molto meglio. Confrontarsi con idee diverse, così da poter elaborare una proposta politica che sia credibile. Qualcosa si può cambiare, appena ti rendi conto di questo non ne riesci più uscire. Credo che sia raro trovare nel panorama dei partiti italiani iniziative di questo tipo, per cui insomma io sono convinto che sia un'iniziativa assolutamente lo debole. Voi state facendo una cosa di quelle che restano. La formazione politica è l'essenza. Ho una concezione molto alta della politica. L'aspirazione è quella proprio di dare un indirizzo assumendosi nella responsabilità. È come aver fatto una particolare università. Così è successo a quelli che l'hanno fatto nella prima repubblica che purtroppo per loro non è successo a quelli della seconda, tant'è vero che quelli della seconda come sono entrati ne sono usciti.